ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come avete mai sognato di entrare nel mondo incantato di una super villa da sogno bene oggi vi porteremo a fare un tour virtuale nella super villa di luciana littizzetto la brillante comica italiana che ha conquistato il cuore del pubblico con i suoi irresistibili monologhi ma chi è davvero luciana littizzetto e quale segreto nasconde la sua sontuosa residenza scopriamolo insieme in questo emozionante viaggio alla scoperta della vita e delle passioni della straordinaria artista lucianina come la chiamano in tanti affettuosamente è una donna straordinaria un vulcano di comicità e ironia che ha conquistato il pubblico italiano con la sua personalità vivace e il suo talento indiscusso nata a torino luciana ha iniziato la sua carriera come insegnante di musica ma ben presto si è resa conto che la sua vera passione il suo talento era far ridere le persone il suo ex collega e amico fabio fazio ha avuto la fortuna di collaborare con lei a che tempo che fa dove ha avuto modo di esprimere tutto il suo estro comico la sua capacità di improvvisazione e le sue battute taglienti hanno fatto sfracelli sul palco e davanti alle telecamere ma oltre alla brillantezza artistica c'è anche un'altra sfaccettatura della vita di luciana littizzetto quella legata al mattone sì perché oltre ad essere una comica straordinaria luciana è anche una grande appassionata immobiliare il suo ricchissimo patrimonio è frutto delle numerose collaborazioni con la rai che spesso le hanno garantito compensi molto generosi non senza qualche polemica e così oggi possiamo ammirare ben 13 proprietà intestate a luciana littizzetto solo nella bellissima città di torino oltre ad una dimora pregiata anche nella vivace milano la maggior parte degli immobili si trovano nel suggestivo quartiere borgo po una delle zone più belle della città piemontese luciana littizzetto non è solo una grande artista ma anche una saggia investitrice e la sua dimora da sogno è il luogo ideale in cui rilassarsi dopo le intense giornate di lavoro luciana littizzetto è una donna straordinaria con un talento comico che la rende unica nel suo genere conosciuta come la donna dai monologhi comici sa come far ridere il pubblico con le sue battute taglienti e ironiche sempre pronta a cogliere l'aspetto più divertente della vita riesce a trasformare anche i momenti più banali in situazioni esilaranti la sua carriera artistica è stata ricca di successi grazie alla sua presenza sul piccolo schermo in programmi molto popolari come che tempo che fa accanto al suo ex collega fabio fazio ma non solo luciana ha anche mostrato il suo talento nella musica essendo stata una professoressa di musica prima di diventare famosa per i suoi spettacoli comici i sacrifici del suo duro lavoro che l'ha consacrata come artista unica nel suo genere le ha permesso anche di guadagnare abbastanza la sua passione per il settore immobile ne è la dimostrazione la dimora principale della comica si trova in piemonte concentrandosi principalmente nella splendida zona di borgo po a torino luciana littizzetto ha creato uno scenario da sogno in cui potersi rilassare e godere dei frutti del suo lavoro duro e delle sue indiscusse abilità comiche vi siete però mai chiesti dove vive luciana littizzetto la famosa comica italiana conosciuta per i suoi monologhi pungenti e il suo humor irresistibile ha sempre mantenuto un profilo discreto sulla sua vita privata tuttavia alcune informazioni su dove risiede sono trapelate nel corso del tempo luciana littizzetto è originaria di torino una città con cui ha sempre avuto un forte legame è qui che ha deciso di stabilirsi e costruire la sua dimora da sogno la super villa di luciana littizzetto è qualcosa di veramente straordinario elegante raffinata la maggior parte delle proprietà immobiliari della comica si trovano proprio a torino in particolare nella zona suggestiva di borgo po qui si respira l'atmosfera magica della città piemontese tra vie storiche e palazzi d'epoca nonostante sia nota per il suo sarcasmo sulle questioni finanziarie luciana littizzetto ha dimostrato di avere un vero e proprio talento anche in un settore che non le appartiene il suo ricchissimo patrimonio non può essere ignorato oltre alle 13 proprietà a torino ma sicuramente possiamo dire che la super villa di luciana littizzetto sembra davvero un sogno diventato realtà per quella che è considerata una delle donne più divertenti d'italia la super villa di luciana littizzetto la super villa di luciana littizzetto è davvero una meraviglia che sembra uscita direttamente da un sogno situata in una delle zone più belle di torino borgo po questa sontuosa dimora riflette perfettamente il gusto e lo stile eclettico della famosa comica italiana la sua famiglia proviene da bosco nero un piccolo paese con una popolazione di circa 3 000 persone situato a meno di 30 chilometri da torino tuttavia è cresciuta nel quartiere torinese di san donato dove i suoi genitori gestivano una latteria ha continuato i suoi studi a torino frequentando prima il conservatorio e conseguendo un diploma in pianoforte per poi laurearsi in lettere decise di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo portandola spesso a milano ma il suo cuore è sempre tornato a torino dove luciana attualmente risiede vive nel quartiere di borgo po una zona collinare che si estende sulla riva destra del fiume dietro la maestosa chiesa della gran madre di dio la dimora di luciana è una sontuosa villa a più livelli dotata di un ampio terrazzo lussureggiante di piante che regala una vista spettacolare su torino con la distintiva mole antonelliana che spicca nel panorama urbano un vicino di casa davvero speciale per luciana è stato cristiano ronaldo quando giocava nella juventus durante il suo soggiorno a torino il giocatore ha scelto proprio questa prestigiosa zona per acquistare una casa da sogno grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video